Parte con le piede giusto il campionato di Serie A2 della VL che debutta a Lecce battendo Nardò col punteggio di 86-78. Una vittoria costruita dalla squadra di Sacripanti sul dominio totale di secondo e terzo quarto dopo un primo parziale invece contratto in cui Nardò aveva chiuso avanti sul 16-12 e un finale zeppo di errori che consentono invece ai Salentini di addolcire il passivo dopo che erano andati sotto pure di 24 punti. Insomma un approccio rivedibile al pari dell'epilogo ma ci si tiene stretti due punti d'esordio ottenuti in trasferta e con ben cinque giocatori andati in doppia cifra. Dai 20 punti di Kinga ai 14 di Amade Bucarelli, dai 12 di Zanotti agli 11 di Maretto. Il tutto in una prova collettiva positiva che ha saputo ammortizzare l'assenza di Petrovic. Ora si pensa alla gestione delle energie perché il campionato non consente tregue. Mercoledì 2 ottobre alle 20.30 c'è infatti l'atteso debutto la Vitri Frigo Arena contro la Elachem Vicevano, un doppio turno casalingo che proseguirà domenica contro Avellino.